Chi era? Aveva la maschera d'oro. Maschera d'oro? Aiuto! L'avete vista? Chi è? Chi è? Io sono un uomo morto. E lei insiste a dire che c'è della gente viva? Io sono morto per il mondo, vivo solamente per lei. Per chi? Per Antinea, la regina di Atlantide. È bellissima. Voi non l'avete vista perché ha la maschera? E sapete perché ha la maschera? Sarà carnevale. No, perché la sua bellezza è fatale. E chi la guarda si innamora di lei. Diventa pazzo. Pazzo! Come me! Si vede che sono pazzo? Ma che? Ma non si può vivere senza guardarla. Non si può guardarla senza toccarla. E non si può toccarla senza cosarla. Senza morire. e non. Ho, ha, ha, ha... Ahahahahha!